Musica Parlando di filiera credo sia una grande e adeguata risposta ai problemi del mercato problemi del consumatore che vuole mangiare sano e mantenere la cultura enogastronomica italiana sapere da dove viene la materia prima, penso sia la risposta all'agricoltore che deve comunque produrre un reddito però bisogna uscire dalla mentalità che pensa che il grano sia tutto uguale, non è così noi sappiamo che la superficie agricola che abbiamo in Italia non è sufficiente a soddisfare tutta la domanda e quindi proprio per questo motivo lavoriamo insieme sulla qualità creando valore nella filiera. Musica Musica Musica